Anche un minorenne salentino figura tra le vittime di un pedofilo finito in manette a Rimini. Tutto è cominciato due anni fa, quando una donna del posto si è presentata ai carabinieri per denunciare i messaggi a sfondo sessuale recapitati da un uomo sulla posta elettronica del figlio, un adolescente di 14 anni. E' stato quello l'input che ha dato il via alle indagini e che ha portato a far luce su circa 23.000 contatti che il trentenne intratteneva con minori di tutta la penisola attraverso messaggi sui social e whatsapp. Nel Salento l'episodio più grave, l'uomo recatosi in vacanza dopo aver dato appuntamento ad una delle sue vittime avrebbe consumato l'atto sessuale, di cui l'arresto è seguito su ordinanza del GIP di Lecce. La conferma delle attitudini del trentenne sarebbe testimoniata da migliaia di foto e chat scoperte nella sua abitazione. Il più piccolo dei ragazzi adescati ha 12 anni. Secondo le indagini l'uomo pagava le foto che i ragazzini gli inviavano con regali costosi, abbigliamento firmato, profumi e ricariche telefoniche. In cambio era sufficiente raccontare i propri gusti sessuali fino agli incontri dal vivo e a richieste sempre più esplicite e perverse. In diverse occasioni le vittime non ci sono state, hanno finto di assecondare il trentenne per poi defilarsi dopo aver intascato il regalo promesso via chat.